buongiorno allora una delle idee che mi è venuta che proverò a realizzare anche per portare questa birra ispo è quello di fare un'archeobirra onestamente non ho ancora deciso bene come procedere però l'intenzione è quella di usare i lieviti kwaik quindi delle farmhouse scandinave ponendole alla procedura dell'antica birra egiziana quindi l'idea è quella di metterci il pane raffermo il miele e poi vediamo cos'altro con il lievito kwaik quindi creare una birra archeo chiamiamola così impropriamente o formisticamente per divertirci e fare questa birra sperimentale usando sia il pane che il lievito kwaik per ottenere un risultato finale che speriamo sia ovviamente tale da giustificare questo tipo di esperimento fatto quindi vediamo un po cosa esce l'appuntamento è a espo a settembre con questa birra che vorrei sperare possa venire bene grazie 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 grazie